Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video, questo è un video esaurimento, no perché sono da esaurita ma c'è caldo, è un video un po' shopping, ho ordinato su Privalia che c'è la campagna di equilibra e poi ho fatto degli ordini su Amazon perché sono stata contattata ragazze per un'altra collaborazione, ringrazio tantissimo l'azienda che mi ha riscritto un'altra volta che mi ha dato super fiducia, era l'azienda degli orecchini, vediamo se ce li ho da farvi vedere sotto mano, era l'azienda che mi ha mandato gli orecchini, aspetta che ve li cerco, ecco qua ragazzi gli orecchini erano questi qui, bellissimi, fantastici, anzi quasi quasi, adesso li lascio fuori perché devo uscire, me li metto, mi metto delle mollette per sistemare questi ciuffi, non mi truccono niente perché ragazzi c'è troppo caldo, voglio lasciare che la pelle respiri, anche perché in questi giorni che mi stavo truccando mi facevano male gli occhi, nel senso che sentivo proprio la pelle della palpebra che mi faceva male. Allora, vediamo se trovo un buco, sì, dovrebbe essere questo tra i tanti, ok, vabbè mi darò una sistemata, comunque ragazzi gli orecchini sono davvero belli. Mi hanno contattato appunto per un'altra collaborazione, nell'info box vi lascio il link, vi lascio sempre nell'info box ultimamente il link anche per le altre collaborazioni. Avevo collaborato per il porte cuffite, airpod, per questi qua c'è il link sempre e ragazzi vi metterò il link anche di questa, intanto arrivano con una confezione così di carta, sono confezionate stra bene, nel cello fanno tutto molto seguito, molto ordinato. Ragazzi questa volta ho scelto una collana, perché? Perché ho pensato anche ad eventuali regali, guardate che meraviglia che è, c'erano di vari colori, di vari modelli, quindi o tutta in oro, o tutta in argento, o tutta in cordoncino, o metà oro, metà cordone, o metà come ho preso io, argento e metà cordone. Perché l'ho scelta così? Perché ragazze, la parte in cordone andrà al mio compagno e la parte in acciaio e la terrò io. Guardate com'è bella, in più cambia anche la metà del cuoricino. Questo cuoricino qua è magnetico, c'è all'interno la calamita ragazzi, è fatta benissimo, stupenda, anche per i morosetti, se ci sono degli anniversari, qualcosa, infatti anche il mio compagno ha detto no no, prendila subito, c'erano altre cose che potevo scegliere, ma il mio compagno ha detto prendila subito che la metto super volentieri. Ragazzi, la qualità è davvero alta, sono 12,99 euro se non sbaglio, ma secondo me vale la pena perché il cordone è bello, lungo, ma ragazzi, cioè a me piace, piace da morire. Sono molto bravi, molto attenti, vi ripeto, il pacchettino arriva davvero super fatto bene, la spedizione è super veloce, fantastica, adesso vediamo. Potete decidere di tenerla lunga come va di moda adesso, di tenerla corta. Adoro io quando ci sono i cordoni così lunghi, proprio per quel motivo lì, perché uno può decidere come metterla, guardate che meraviglia. E questa qui è l'altra, cioè stupenda, davvero stupenda, adesso non vedo l'ora di fargliela indossare anche a lui, quindi fantastica, super contenta veramente di questa collana, di questa collaborazione. Ripeto, date un occhio a loro, perché hanno un sacco di cose davvero valide, davvero interessanti, a parte il discorso della collana, ma come vedete anche gli orecchini, vi assicuro che li ho messi, ci ho spruzzato il profumo, quindi la qualità è davvero alta. Ringrazio ancora tantissimo, perché loro mi hanno dato fiducia più di una volta, quindi sono onorata di fare queste collaborazioni con loro. Poi, per arrivare alle spese di spedizione gratuite, ho infilato dentro le tende, che vi farò mettere una foto, perché i ragazzi sono già attaccate, ma di quelle non sono per nulla contenta, in quanto sono 13 euro di due tende piccoline, la nappina finale è molto bella, molto carina, ma ragazzi il tessuto fa pietà. È super trasparente, ma è quel tessuto che fa tipo le brene, non so come dirvelo in italiano, perché in dialetto qua da noi si dice le brene, non so, in italiano corretto il metodo, il modo, però fa tipo tutte, quei buchetti, quelle, la qualità proprio, cioè è un tessuto talmente tanto leggero, che vabbè, vi metterò le foto, ma non vi metterò neanche il link, perché secondo me non ci siamo. Poi, costavano una miseria, ho messo nel carrello questi quadrotti qua, che mi sto trovando bene, li sto già utilizzando, perché li avevo prese altre volte, e questi qua piccolini da 50, che comunque anche in formato viaggio non sono male. E ho infilato, cartigenico, umidificata, gettabile nel WC, il marchio è Sofis. Credo di non averla mai provata. L'inch è fatto bene, perché contiene Babassu Oil, aloe, acqua, glicerina, pantenolo, olio di mandorle dolci, non sembrano male. Per quanto riguarda Equilibra, mi hanno regalato il solito gel lavamani, igienizzante, che non so, non mai posso prenderlo, e vi metterò i prezzi nell'info box perché non me li ricordo, non so se questo è a 6,50 o 7 euro, comunque era il pacco da due, ho preso il collutorio al cocco, Equilibra fa tutti i pacchi da due, ho preso due dentifrici allo zenzero, che gli ho già dati, che non erano per me, quelli costano 5 euro, due dentifrici al cocco e due dentifrici gengive sensibili, quindi i pacchi sono, ripeto, tutti da due e i dentifrici questi qua sono a 5 euro. Perché non li compro in negozio, ma li compro su Privalia? Perché ragazze, anche da Ticotagli vendono a 2,99, 2,90 o 2,99, difficilmente vanno in offerta, di solito vanno in offerta anche a 1,99, quello al carbone e quello a denti normali, triplazione, una roba del genere. Questi qua è davvero difficile che vanno in offerta, c'era la campagna, avevamo necessità di dentifrici e ne ho approfittato. Poi ho preso due prodotti della linea nuova, ho preso sempre due, una da regalerò, è un'acqua rinfrescante alla rosa, dice regeneration, rinfrescante, 98% di origine naturale, 0% petroli, acqua glicerina, rosa d'amascena, rosa canina, rosa moschetta, rosa sentifolia, acqua, fermenti, mamma mia è fatto davvero, fantastica, senza parabeni, applicare la mattina e sera su un batuffolo di cotone. Acqua di rosa fermentata, azione tonificante e antiossidante, potenziata con l'acqua di rosa canina, sentifolia e moschetta, che donano freschezza e rendono la pelle più elastica e vitale. Estratto di rosa d'amascena, fermentata, estratto di una selezione di rose nobili, completa la routine di detergenza, riequilibra il pH della pelle, la rinfresca e la prepara agli altri trattamenti. È trasparente, si legge malissimo, eccola qua, è una sorta di tonico, secondo me questo per l'inverno deve essere una bomba, e l'acqua micellare, deterge e strucca delicatamente sempre alla rosa, la nuova linea di equilibra. Due pacchi così. E ragazze, basta, questa va di avere più roba da farvi vedere, invece no, vabbè, niente. Ho fatto tutto veloce per dirvi tre robe in croce di prodotti. Comunque, voi non potete capire il danno che io ho fatto, ho versato acqua dappertutto. Vi volevo dire, date un occhio sempre all'app di Privalia, io l'ho scaricata, è un'app dove ci sono un sacco di cose, dalle scarpe ai vestiti, spesso ci sono i buoni sconto, anche tipo per Sephora, quelle cose lì. Ci sono le campagne coreane dove io compro sempre le maschere e appunto c'è equilibrio. Ci sono un sacco di cose che secondo me vale la pena. Le spese di spedizione si aggirano sui 4, 5, 6 euro, dipende dalle campagne, però ragazzi vi assicuro che spesso si trovano dei prezzi super, super, super imbattibili, specialmente per quanto riguarda i pack di maschere. Bene ragazzi, io da questa faccia distrutta, mi dispiace che ultimamente mi vedete così cessa, però ragazzi, cioè, fa caldo, fa caldo. Fatemi sapere se avete provato la linea Le Rose, io non l'avevo mai vista e se anche a voi piace Equilibra, se avete qualche prodottino da consigliarmi, da comprare su Amazon e di Equilibra. Vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video.